La Regione Puglia e l'ASL Foggia dicono basta notizie false sul futuro dei punti di primo intervento della Capitanata. Sul Gargano in questi giorni stanno girando gli assessori regionali Leo Di Gioia e Raffaele Piemontese insieme al direttore generale dell'ASL Vito Piazzolla e ai dirigenti della stessa Regione Puglia, prima tappa, Vieste. Noi oggi siamo venuti qui con i vertici anche della sanità pugliese oltre che della provincia di Foggia per dire ai cittadini di Vieste che cosa accadrà e al nostro modo di vedere le cose questa conversione avrà un effetto migliore perché Vieste continuerà ad avere una postazione medicalizzata fissa di 118, significa che nella struttura di Vieste ci sarà sempre un medico H24, oltre a quel medico ci sarà un secondo medico nell'ambulanza, un'ambulanza con il medico, questo d'inverno, mentre d'estate Vieste avrà il medico fisso nella struttura sanitaria, due ambulanze con i medici, quindi tre medici, l'elicottero fisso a Vieste dalle 8 di mattina alle 8 di sera, dalle 8 di sera per tutta la notte l'elicottero a disposizione dalla centrale di Foggia che arriva qui in caso di urgenza in 15 minuti di tempo. Inoltre abbiamo comunicato oggi, il direttore generale, il direttore Ruscitti, abbiamo comunicato che per il distretto di Vieste-Vico abbiamo implementato, incrementato, aumentato il numero di ore della specialistica ambulatoriale, faccio un esempio per tutti, ci saranno 6 ore a settimana di ginecologia, cioè ci sarà una ginecologa nella struttura sanitaria di Vieste per 6 ore a settimana. Ecco, questa è la realtà dei fatti. Buone notizie per la comunità di Vieste, anche dal direttore generale dell'Asifoggia, Vito Piazzolli. La paventata chiusura dei punti di primo intervento non c'è, abbiamo avuto assicurazioni, avevo già dato assicurazioni ai sindaci, ai 5 sindaci dei comuni coinvolti, oggi siamo qui per rassicurare tutta la popolazione che dal punto di vista dell'emergenza urgenza diamo anche quest'anno un incremento di attività, cioè la seconda ambulanza l'abbiamo già deliberata e verrà qui dal 1 giugno, dal 15 invece ci sarà anche il secondo elicottero.